Allora, guardiamo quest'albero, da questa parte vedete la corteccia, l'albero da questa parte è malata, da questa parte invece l'albero sta bene, ok? Anche se guardiamo le foglie, da questa parte l'albero è verde, è sano, mentre invece se guardiamo dall'altra parte purtroppo l'albero è morto, è morto. E come mai? Ah, c'è un'antenna 5G di vicino, ok, qui c'è un albero e qui vicino a quest'albero c'è un'antenna 5G e che sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo per terra troviamo tantissimi uccelli morti, alcuni sono già morti, altri stanno morendo e purtroppo stiamo constatando che c'è una vera e propria strage. E questo succede da quando hanno attivato l'antenna 5G qui nelle vicinanze. Però è una buona notizia, questo è un gruppo di falchi che stanno praticamente attaccando un'antenna e stanno andando a strappare tutti i fili. Oh, abbiamo degli alleati che combattono con noi, ma che lo capiscano anche quelli che stanno installando queste antenne e che questa cosa non si deve fare. Stanno strappando i figli delle antenne perché hanno capito che facendo così le mettono a tacere, perché hanno ammazzato i loro compagni e quindi adesso questi sono incazzati neri. Avanti, forza, smettetela, non installate più le antenne 5G. Ciao